La grandezza. Noi non vogliamo viaggiare nei cinque continenti, ma dedicarci alla preghiera in un convento. Noi vogliamo viaggiare dentro di noi, incontrare tutta l'umanità sofferente, senza mai spostarci e aiutare gli altri nella solitudine. Noi non vogliamo fare all'esterno di noi, ma essere. Siamo come specchi che raccolgono la luce, ma non la trattengono per sé, perché tutti possano goderne. Noi siamo preghiera. Per questo abbiamo scelto la clausura. Commento. La grandezza non sta nella scelta della clausura, ma nell'essere preghiera. La grandezza non sta nella scelta della clausura, ma nell'essere preghiera. La grandezza non sta nella scelta della clausura, ma nell'essere preghiera. La grandezza non sta nella scelta della clausura,